Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono FNTSMN, scusate, e come potete vedere sono in un Hunger Game, nei server SPHX, che sono principalmente server in cui giocano solo italiani. Ho appena scelto il kit e sto usando un kit Archer Pro, e questa è una mappa in cui ho vinto diverse volte, quindi speriamo di non fare brutta figura. Vediamo un po' di salutare tutti, tanto per fare, salutate il tubo. Ok, ma non me l'ha mandato? Buono, bene, fa niente, vediamo un po', vediamo qua, un po' di gente c'è, quanta gente. Dai, 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 se voglio iniziare con il mio kit Archer Pro, vedere un po' di no, fa schifo, fa una bella figura. Comunque intanto vi ringrazio per tutti gli iscritti al canale, tutti i nuovi iscritti, il contest sta andando benissimo, direi. Ci sono... ah, ecco, è passata la mia pubblicità in chat, come potete vedere. Ci sono un sacco di nuovi iscritti, il contest ormai ha superato i 115-120 iscritti, quindi... eh, dai che si inizia, vediamo un po' come va, dai, il lag, il lag iniziale è sempre una cosa assurda. Eh, vabbè, dai. Oh, ho, ho preso un panini, è la pozione del mio... cos'è, la forza? Forza, ottimo. Ok. Ma... dove cazzo è il mio kit? Ma io non ci posso credere. Ho comprato il kit Archer Pro? Io non ci posso credere. Vabbè, proviamola così, cosa vi devo dire? Sarà una bella impresa, ma... non mi tiro indietro. vediamo un po', allora. Spadozza al volo. Vediamo se già la si fa. Già, che ci sono. Picconazzo. Non si sa mai poi per farmi la spadafica. Eh, lag, che bello. Eh, va a fanbrodo. Quanto lag, quanto lag. Pozione. E andiamo a prendere quei due. O almeno a prendere uno di quei due. qua. Andiamo, andiamo. Dove si sono cacciati? Muori, muori. Bella, bella. Bene, bene. Vediamo un po'. Spadina, cibo. Crafting, ok. La provo così, la provo così. Bella. Ok, 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 ok. Devo recuperare al volo i cuori. Ok. Mela d'oro. Ok, andiamo di pollo crudo. Sì, va bene, mi sono avvelenato. Al momento, sinceramente, non mi interessa particolarmente questa cosa. Bella carne cotta. Oh. Vediamo un po'. Se trovo qualcun altro in giro. Quaranta, no, cinquanta. Intanto sto recuperando la vita. Mi piacerebbe uccidere qualcuno che c'ha qualcosa. Uh, guardalo là. Eh, da qua sarà salito. Speriamo non si accorga che... Un archetto non mi farebbe schifo. Bella. Ottimo, ottimo. Direi più che ottimo. Vediamo un po'. L'arco lo mettiamo qui. Abbiamo le frecce. Bene. E siamo sempre meno. Però mi servirebbe un cavolo. Andiamo un po'. Andiamo a cercare qualcun altro. Mi servirebbe un po'. Un'arma più decente. È già un'arma in pietra. Mi sta pure finendo l'effetto di forza. Quindi, andiamo a picchiare un po' qualcuno. Olè. E andiamo. Piccone. Tiriamo su due pezzi. Almeno... Dai, facciamo anche tre. Facciamo il piccone. In pietra. Questo qua. Già onorato lasciandoci. Su. Via, 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 via. C'è qualcuno. Via. Via da qua. Via, via, via. Per il momento, via. Mi sono salvato per un pelo, direi. Ok, allora. Butto giù qua la crafting. Ok, molto meglio così. Ora, da un attimo il tempo che recupero. Lo aspetto qui. Guardalo là. Un secondo che devo recuperare la vita che mi sta. Se no mi ammazza, così. E diciamo che non sono molto contento. Ok. Vediamo un po'. Ancora qua. Che cacchio. Il lag. È sempre lì. Anzi. Vorrei capire bene dove si trova ora. Vediamo un po'. Sarà ancora là sotto. Stara scavando. Ora poi ho tutta la vita quindi posso anche tentarla. È lì, infatti. ce l'ho fatta. Andiamo, andiamo. Cos'è? Il lingotto di ferro buono. Vieni su. Tre lingotti di ferro quindi direi spadozza. Vediamo qua se è grandissimo il mio amico. Grandissimo, veramente. Grazie mille. Allora, spadozza di ferro poi vediamo un po'. Quasi quasi caschetto. E va bene così. Un minimo di protezione. E andiamo, continuiamo così. Meglio di così. non si può. Allora. Vediamo un po'. Non aveva nient'altro però, no. Aspetta, controlliamo bene. No, niente. Speravo in qualcosa. Dov'è questo? Sta sotto. Terra. Allora, sarà entrato da qua. Direi che è entrato assolutamente da qui. Però non vorrei evitare di ammazzarmi. Vediamo un po'. Se c'è un posto migliore per entrare da qualche parte. No. Allora. Cerchiamo in giro. Vediamo se la bussola punta ha un altro giocatore. Perché là sotto sinceramente non ho voglia di andarmi a ficcare. vediamo un po'. Corri, corri. Corri, corri, guaiio. Dai, dai. Ste galline. Ho visto? Ah, una gallina. Niente, qua sotto. Non so se scendere. Vediamo qui. Se va da qualche parte. No. Speravo si potesse arrivare a quello là. oh, c'è uno. No, 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 no. Via, via. No! E niente, cosa vi posso dire? Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vabbè, non ho vinto e non si può sempre vincere. Però comunque è stata ammincente. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale e mi raccomando alla prossima.